Continua la preparazione di avvicinamento alla sesta giornata del campionato cadetto. La squadra di Martuscello farà visita alla Reggiana dopo due K.O. di fila e spera di tornare a muovere la classifica. Sabati Granada sarà un ospite a MAPE Stadium della Reggiana, anch'essa in carenza di risultati. Gli emiliani, dopo un ottimo avvio di stagione con un pareggio e due vittorie consecutive, devono lasciarsi alle spalle le due sconfitte contro Mantove e Pisa per rimettersi in careggiata. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15. Si prevede grande equilibrio per questo incontro a Reggio Emilia tra due squadre che vivono un momento di stallo, ma i Bumakers attribuiscono qualche chance in più di vittoria ai padroni di casa. Nonostante tutto la formazione campana vuol trovare riscatto in trasferta per mettere da parte gli ultimi risultati negativi, ma in primis deve cambiare il trend difensivo che vede la Salernitana la difesa più perforata del campionato. Sempre in Serie B la Juve stab in tranquillità nella riservatezza del Menti si prepara alla sfida in trasferta contro in Modena. Le Vespe arrivano al match con la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta a Casalinga contro il Palermo, la prima in stagione. Il Modena invece non ha avuto un avvio pienamente convincente. Una sola vittoria nelle prime cinque giornate accompagnata a due sconfitte contro Suttirole e Cittodelle, due pareggi contro Frosinone e l'ultima contro Cesena. Per Paolo Bisoli, allenatore del Modena, ha avuto una buona carriera da calciatore, soprattutto tra le file del Cagliari in Serie A per sei stagioni. Ha avuto invece una discreta carriera da allenatore. Bisoli non è mai stato un integralista per ciò che concerne il modulo tattico utilizzato in campo. Anche nel Modena, nelle prime cinque giornate di campionato, ha alternato il 4-3-2-1 albero di Natale con il 3-4-2-1 o anche in qualche circostanza con il 3-5-2. Nell'ultima gara, nel derby, contro il Cesena, è sceso in campo col 4-3-2-1 ed è probabile che questo sia il modulo di tattico di riferimento anche contro la Juve Stabia.